Se in questo caso avete riscontrato dei problemi riguardo alla violazione sulla sicurezza del security boot che sarebbe lo stato avvio protetto che è molto importante su FIFA, due anni fa realizzai un tutorial su FIFA 2023 che molte persone quando hanno avviato il gioco usciva questo errore riguardo al security boot. Quindi il security boot si può attivare sul BIOS della propria scheda madre quindi in questo caso come puoi vedere realizzai così quel tutorial ed eccolo qua ovviamente devi spegnere così il tuo computer spegni il tuo computer e quando lo accendi devi cliccare così il tasto F12 cance sulla tastiera così quando proprio avvi il computer ti esce il logo della tua scheda madre proprio il logo e sotto ci sono dei tasti da premere per entrare nel BIOS che sarebbero F12 sulla tastiera oppure il tasto DELL per cancellare oppure il tasto CANC cancellare. Entri così nel BIOS questi qua sono gli ultimi BIOS aggiornati quindi come puoi vedere in alto a destra quindi in alto a destra proprio qua questa parte qua in alto a destra dove c'è il tasto proprio ricerca quindi devi cercare il security boot è molto semplice qua sopra basta che scrivi security boot e te lo trova subito subito eccolo qua security boot come puoi vedere a me è abilitato quindi per essere sicuri che hai abilitato il security boot puoi sempre vedere sul system information quindi scrivi qua sopra system information e ti porterà su questa schedina qua ed eccolo qua stato avvio protetto è attivato e non è disattivato è attivato quindi tu FIFA lo puoi aprire senza nessun problema security boot attivo è sul security boot modo messo standard e basta una volta selezionato così il security boot attivo non devi fare altro che premere il tasto sulla tastiera F10 ok eccolo qua salvi così la configurazione premendo il tasto F10 sulla tastiera esce così la schedina e salvi la configurazione quindi per sapere se l'hai attivato basta che vai su system information qui c'è scritto stato avvio protetto attivato e poi avviare FIFA senza nessun problema quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video puoi anche guardare quella guida che ti ho fatto vedere in questo video sta nelle schedine in alto a destra grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao